Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Iniziamo la nostra settimana come di consueto con i principali fatti di politica e economia internazionale. Iniziamo subito con una notizia dell'ultima ora. Prigogin è a Mosca, ha già incontrato Putin, il capo o ex capo del gruppo Wagner. Iniziamo subito con questa notizia. Ben ritrovati a Stefano Orsi. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. E benvenuto Giacomo Gabellini. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. Ciao Giacomo. Benvenuto Giacomo. Allora Stefano, c'è una notizia, viene riportata da varie agenzie, c'è già un articolo diretto di Washington Post. New York Times e anche Washington Post. Ne ha aspettato a livello di media se vogliamo, ma cerchiamo di capirne di più. Sì, Peskov nella conferenza stampa di questa mattina ha rivelato appunto, siccome era trapelato grazie a Lukashenko che Prigogin fosse in Russia e non in Bielorussia, le ragioni di questa presenza in Russia che non si comprendeva bene. Cinque giorni dopo i fatti dell'ammutinamento dell'unità Wagner, il capo della Wagner insieme a 35 comandanti della sua brigata, anzi della sua compagnia in generale che è più grande di una brigata, sono andati a incontrare direttamente il Presidente Putin. 35 dei suoi comandanti che hanno ribadito la loro fedeltà e il loro impegno per la Russia. Il Presidente Putin ha dato una valutazione di tutto quello che è stato l'operato della Wagner in questi mesi e in questi anni in cui collabora con il governo russo perché ricordiamo ha combattuto in Siria, in Libia e in Africa per difendere di fatto gli interessi dello Stato russo e in questo caso hanno tirato un po' le somme di quelle che erano le valutazioni su quanto accaduto e sull'impegno passato. Quindi hanno convenuto che i comandanti sono assolutamente fedeli alla linea di comando del paese, vogliono continuare a combattere per la Russia. Non si hanno notizie sulle eventuali conseguenze che questo avrà in seguito perché non ha detto nulla in tal senso Peskov. Resta anche sul fatto della conduzione, del comando della compagnia si sa poco. Non credo sinceramente che il ruolo di Prigozin possa restare lo stesso anche perché dal taglio che hanno preso le indagini e che stanno scandagliando tutti i conti della gestione Prigozin sembra che vogliano far emergere le irregolarità gestionali e quindi degli arricchimenti illeciti da parte sua a spese dello Stato perché hanno fatto più e più volte riferimenti anche in date successive a quell'incontro lì che era avvenuto appunto ricordiamolo cinque giorni dopo i fatti e quindi direi che si possa archiviare la posizione di Prigozin anche se è un po' presto per dirlo però mi sento di fare questa eventuale previsione proprio sulla luce del taglio che hanno preso le indagini e il modo di riportare queste notizie da parte di giornali e telegiornali in Russia. Sì, in Russia. Sentiamo la lettura di Giacomo. Beh, io che i contatti ci fossero stati sia durante le ore calde, in quel fine settimana tra il 24 e il 25 giugno e nei giorni successivi lo davo per scontato. La mediazione di Lukashenko avrà sicuramente favorito quel genere d'accomodamento che poi è stato trovato, almeno quello che si sa perché poi i termini precisi dell'intesa non si sa quali sono stati. C'era un sito, non mi ricordo quale fosse ma mi pare che lo riportava anche il New York Times che aveva monitorato le rotte seguita dall'aereo di Prigozhin nei giorni successivi a quei fatti che aveva, quale emergeva da queste rotte che Prigozhin aveva fatto continuamente la spola tra Mosca, San Pietroburgo e Minsk. Quindi un continuo andirivieni che evidenziava chiaramente la necessità di tenere dei colloqui con personali in Russia, probabilmente per decidere in cui sarebbe stato stabilito il suo futuro e definiti i suoi ruoli successivi e soprattutto chi ne sarà del gruppo Wagner che a mio modesto parere rappresenta uno strumento troppo prezioso per il Cremlino per essere dismesso e direi anche per essere formalmente integrato nella catena proprio nel Ministero della Difesa. Se il gruppo Wagner nasce da un'intuizione, un'idea, un progetto del GRU, il Servizio Segreto Militare Russo che intendeva servirsene per poter, cosiddetta denial plausibility, questo genere di forze, di organismi come il gruppo Wagner, organismi di sicurezza privata, formalmente privata, consentono allo Stato, allo Stato Russo di condurre certe operazioni senza, virgolette, sporcarsi le mani e poter smentire la propria partecipazione diretta. Nel momento in cui questo gruppo viene integrato proprio formalmente sotto il Ministero della Difesa russo, viene meno la ragione per cui è stato creato. Quindi credo che una qualche forma, diciamo, di qualche esperto militare dovrà trovare una formula per rendere spettibile il ruolo della Wagner, sì, diciamo senza compromettere un po' la sua funzione. Di certo credo che Brigoji non possa rimanere al suo posto, questo è un dato di fatto. E credo che la Wagner potrà continuare a servire gli interessi della Russia rigorosamente all'estero, quindi in paesi come l'Africa, insegnatamente il Sudan, la Libia, il Chad, la Repubblica Centrafricana, dove il gruppo Wagner si è posto nelle condizioni di controllare non solo, cioè di entrare uomini del gruppo Wagner fungono da protezione dei presidenti, in alcuni casi, in altri casi per esempio vengono remunerati, retribuiti per i loro servizi prestati, come in caso del Sudan, con il controllo di alcuni minire, di materiali strategici come l'oro, tanto per dirne una. E quindi questo pone lo Stato russo nelle condizioni di allargare la propria influenza sulle fonti di materie prime che esistono a livello internazionale. E questo è un progetto molto chiaro del Cremlino, che si è rivelato anche molto utile durante la fase per combattere la campagna sanzionatoria orchestrata dall'Occidente, quella di militarizzare le materie prime in risposta alla militarizzazione del dollaro e delle monete in generale da parte dell'Occidente. Quindi credo che per i gogeni uscirà di scena, staremo a vedere le modalità attraverso cui uscirà di scena. Se magari verrà marginalizzato e relegato nel dimenticatoio, magari fra qualche mese farà una fine un po' particolare. Fatto sta che, a mio parere, come ho già detto nella scorsa puntata, sono di un avviso un po' diverso rispetto a quello che è stato dato anche da alcuni osservatori non appartenenti al ministro di Mio, credo che all'interno dello Stato russo ci siano varie forze, vari centri di potere che ha avuto in funga la mediatura. E il gruppo Wagner in questo senso era mal visto da alcuni settori piuttosto strumenti dei filovicchi, quindi dei funzionari di Stato e delle forze armate. Anche perché comunque il protagonismo di Prigozzi, nel suo tentativo di mettere in lustro i successi della Wagner, ha spese molto spesso, non tanto e non solo, degli ufficiali e degli alti vertici dei comandi militari della Russia, che quello in una certa misura può anche essere considerato legittimo, ma della stessa qualità delle forze armate russe regolari, quella è una cosa che non si fa, in generale è inaccettabile, cercare di dare risalto ai propri meriti a spese delle forze regolari. E questo probabilmente non è andato giù a molti personaggi piuttosto influenti, al cima dei quali credo ci sia Shoigu se non lo stesso Putin. Per cui credo che la Wagner sopravviverà a Prigozzi e vedremo se Prigozzi sopravviverà a se stesso. Molto, molto bene. Abbiamo fatto un buon punto della situazione, calcolando che è una dinamica in evoluzione, proprio l'incontro di queste ore, ma direi che abbiamo già fatto delle analisi in prospettiva molto, molto interessanti con Giacomo e Stefano. Questo che era l'argomento di queste ultimissime ore, mentre l'argomento che tiene Banco da alcuni giorni è la fornitura delle armi a grappolo da parte degli Stati Uniti all'Ucraina. Direi Stefano che armi ben più potenti come i carri armati Leopard, i missili Heimars e Shadow non hanno cambiato l'inerzia del conflitto, però queste armi a grappolo meritano tutta una serie di considerazioni. Ma innanzitutto è singolare come sia stata venduta questa cessione, come se fosse finalizzata un utilizzo per colpire le truppe nelle trincee. Al contrario, le armi a grappolo nascono per un compito totalmente diverso, e cioè colpire forze allo scoperto, non all'interno di trincee, perché appunto saturano il terreno con molte cariche esplosive che rilasciano sottomunizioni e biglie e altre cose che esplodono in maniera tale da saturare proprio un campo aperto. Questo tipo di arma è assolutamente inadatto a colpire le forze all'interno delle trincee. Servi invece, e potrebbe servire molto bene, per colpire nuovamente i civili, invece come già stato fatto in passato dagli ucraini a Donetsk o anche a Kramatorsk quando colpirono la folla davanti alla stazione, accidentalmente o apposta, non si sa, ma sicuramente con un loro missile, un Tocchka-U che aveva una testata appunto a grappolo, che si apriva e rilasciava molte altre testate più piccole, esplosive per saturare la zona, a Donetsk fece una strage, era testimone tra le altre cose lì sul posto il nostro Giorgio Bianchi e vide appunto anche molte di queste vittime riverse a terra. Cosa dicono? Perché è un crimine di guerra usare questo tipo di armi? Innanzitutto loro dicono che i russi ne abbiano fatto uso fin dall'inizio del conflitto. Io sinceramente ho osservato, credo, più di mille video da quando è iniziato questo conflitto, ben più di mille, perché come minimo ne guardiamo una decina, ventina al giorno per esaminare vari filmati, vari carpire dei segnali, ma non ho mai visto esplosioni di artiglieria che indicassero l'uso da parte delle forze russe di munizionamento a grappolo anche sulle unità di fanteria che avanzavano a piedi. Quindi ti senti di smentire Stefano le affermazioni fatte anche dal mainstream? Smentire, se fosse stato un uso continuativo e sistematico di questo tipo di cariche da parte dei russi avrei sicuramente potuto visionare molti e molti video a tal riguardo e invece non è avvenuto questo. Diciamo che non è possibile che ti siano sfuggiti tutti insomma. Esatto, esatto, non è possibile che mi siano sfuggiti tutti. L'unico che avevo trovato era di un giornalista non ucraino, europeo, che diceva di essere stato al centro di un lancio di munizionamento a grappolo da parte dell'artiglieria, ma sinceramente nel suo video non si vede assolutamente che tipo di munizionamento viene usato. Potrebbe anche essere una serie di esplosioni multiple dovute ai grad che saturano molto una zona dove vanno a cadere, perché sono lanciati magari da due o tre lanciatori, contemporaneamente possono creare questo effetto, ma non sono munizioni a grappolo. Oltretutto c'è un altro problema legato a questo, che molti paesi, tra i quali molti paesi della Nato, sono firmatari di un accordo che proibisce appunto l'uso delle munizioni a grappolo in quanto lo ritengono, hanno firmato una moratoria per capirci. Stiamo parlando della convenzione di Oslo, credo, del 2008, no? Sì, esattamente. Però tra questi paesi non rientrano né gli Stati Uniti né la Russia e quindi la cosa diventa un po' difficile. Forse l'Ucraina invece aveva firmato, se ben mi ricordo. Resta comunque il fatto che anche questo sistema viene dato alla fine, perché stiamo raschiando il barile di ciò che può essere fornito, per capirci. Non è che danno quello perché dia un vantaggio extra. Alla fine delle fini sono molto efficaci, soprattutto se lanciate dai caccia e l'Ucraina non ne ha da usare, perché come si avvicinano al fronte vengono abbattuti. In questa settimana sono stati abbattuti quattro caccia ucraini, oltretutto. E quindi a cosa servono? Servono solamente a fornire dei sistemi d'arma all'Ucraina, perché si ha poco di nuovo o di altro da offrire. Abbiamo visto che man mano che le cose vanno male per le operazioni al fronte, il livello delle forniture di armi letali aumenta e quindi più aumenta più le cose vanno male. Quindi se sono arrivati a fornire anche queste vuol dire che l'offensiva sta veramente andando malissimo. Sentiamo Giacomo, perché c'è proprio Biden, c'è un video in cui dichiara che forniamo le armi a graffolo perché abbiamo terminato quelle più convenzionali. A questo mi era sfuggito, ha proprio detto così? Sì, sì. A un giornalista proprio che lo chiedeva al volo e lui, non so se purtroppo è un dato di fatto che Biden ultimamente… Sì, diciamo che si ragiona, però diciamo che l'ha detto comunque… Non ha più freni inibitori, diciamo, quindi parla rotta libera e dice cose che talvolta spiazzano, ma io credo che sia verosimile, sia sincero in questo caso, perché evidentemente io non sono, come dicevo, non sono un esperto militare, però le bombe a graffolo, quando ho letto anche io che vengono usate per fare strage nelle trincee, io ero alquanto perplesso per usare un eufemismo. Non sono armi che sostengono un certo tipo di guerra, sono invece armi che purtroppo vietano molte vittime nel corso del tempo, spesso e volentieri mesi dopo la conclusione delle ostilità. L'abbiamo visto per esempio in guerra del passato, l'abbiamo visto in Jugoslavia, l'abbiamo visto in Cambogia, quando negli anni 70, durante la guerra del Vietnam sotto l'amministrazione Nixon, gli Stati Uniti, tenendone all'oscuro il congresso, bombardarono il Laos e la Cambogia, perché ufficialmente c'erano i Covid e i Viet Cong, lasciarono bombe a graffolo a pieno spinto, che causarono vittime, innumerevoli vittime tra la popolazione civile e segnatamente tra le fasce più giovani della popolazione. Perché? Perché una componente piuttosto elevata, si parla di 10-15% di questi esplosivi, di queste bombe, di questi ordigni, rimangono inesplosi sul terreno e con il passare del tempo vengono magari coperti dalla terra, dalle foglie, etc. E dei bambini che vanno a giocare in queste zone, magari li prendono in mano, comunque li pestano e innescandoli, e l'esplosione chiaramente li rende meno mati, li uccide, etc. La Cambogia stessa, il presidente cambogiano, si è espresso in materia dicendo che questo rappresenta una soglia critica che gli Stati Uniti hanno oltrepassato. Questo lede, chiaro clamorosamente, l'immagine degli Stati Uniti. Ma io sono sempre un po' perpresso di fronte a queste letture, perché da un lato la guerra guerra, quindi anche tutti questi scrupoli di natura morale. Ricordo anche in passato quando si trattava di armare, nel caso della Siria, i cosiddetti ribelli moderati in luogo di quelli invece più estremisti, per cui si poteva uccidere con bombardamenti intensivi la popolazione, ma guai se si usava il gas. Poi fra l'altro veniva sempre fuori che queste armi non convenzionali, veniva accusato di averle usate sempre la parte avversa allo schieramento occidentale e poi nel corso dei mesi veniva sempre fuori che era stato il fronte invece opposto. Nel caso della Siria erano stati i cosiddetti ribelli moderati, tanto per dirne uno, lo scoprì Seymour Hersh, il suo magistrale articolo del 2013. Il fatto è che in questo caso ha questa operazione dei risvolti politici piuttosto rilevanti, anche perché è passato esattamente un anno, o poco più di un anno, da quando James Psaki, che era portavoce dell'amministrazione Biden, era in carica anche sotto l'amministrazione Obama, dichiarò che quando un giornalista le richiese conto di un commento riguardo all'asserito utilizzo delle armi a grappolo, delle bombe a grappolo da parte dei russi, parlò di crimine e di guerra, senza mezzi termini. Quindi il fatto che adesso in questa posizione formalmente ci si stiano ponendo gli Stati Uniti è piuttosto interessante. Allora si è ricorso alla strategia, ma abbiamo ottenuto garanzie scritte dall'Ucraina che utilizzeranno queste armi solo a scopo difensivo. Questi discorsi, anche qui… Sempre a scopo difensivo, no? Le armi sono sempre a scopo difensivo. Abbiamo visto gli Heimars essere impiegati in maniera non sistemata, ma strategica, proprio strategica, nei confronti delle popolazioni, dei centri abitati di Donetsk. E questo l'hanno riportato decine di osservatori. Non è un dato di fatto incontrovertibile. Quindi le armi arrivano lì e l'uso che se ne fa e dopo lo decideranno i comandi di Kiev con il consenso assenso o talvolta dietro il pungolo comunque dei loro supervisori occidentali. Questo è un dato inoppugnabile che mi pare… Quindi onestamente credo che anche sono propenso a dare la stessa lettura che ha dato Stefano. Avendo esaurito le riserve, questo è un dato di fatto che ormai riconoscono tutti, l'ha riconosciuto Stoltenberg, l'hanno riconosciuto alcuni esponenti del Pentagono, il ritmo dei combattimenti, l'intensità che sta contrassegnando questo tipo di conflitto ha posto i complessi militari industriali occidentali nelle condizioni dell'impossibilità di rifornire adeguatamente le forze ucraine che sparano una quantità di artiglieria, di proietti di artiglieria 10-12 volte inferiore rispetto a quelle sparate dei russi. Quindi evidentemente adesso per raschiare il fondo del barile si cerca quello che si può per dare comunque qualcosa agli ucraini e perlomeno dare l'impressione se non altro a livello mediatico che la controfessiva nonostante tutto, nonostante le immense difficoltà va avanti. È una lunga agonia che continuerà a mietere vittime soprattutto tra il fronte ucraino, l'abbiamo detto e continueremo a dirlo. Nella complessità di questo puzzle, Giacomo, c'è Erdogan, il leader turco, che rimanda indietro a Kiev i vertici del battaglione Azov. Qui c'è bisogno un attimo capire bene la situazione. Erdogan che tra l'altro non concederà il suo voto per l'entrata della Svezia, nella Nato mi risulta. Erdogan è un vecchio volpone, sta come sempre, ormai ci siamo abituati a questo suo atteggiamento, gioca su più tavoli e modera le spinte e controspinte cercando di ottenere il massimo possibile per i suoi, per quelli che lui ritiene siano gli interessi del suo paese e questo non fa eccezione. Ricordo che l'accordo a cui facevi riferimento era stato raggiunto l'anno scorso e prevedeva il termine della battaglia di Mariupol in cui si era segnalato il battaglione Azov, soprattutto come ricorderai nei sotterranei dell'acciaieria Azovstal, questi soldati, questi vertici, questi ufficiali del battaglione Azov sono stati arrestati, portati in Russia, processati etc. Poi sono stati rilasciati, sono stati scambiati con altri prigionieri russi, in base a un accordo che era stato raggiunto proprio grazie alla mediazione turca che prevedeva tra le altre cose la permanenza in Turchia di questi ufficiali ucraini fino al termine delle ostilità. Probabilmente questo rappresenta una violazione dei termini dell'accordo. Pescov l'ha detto chiaramente, ha parlato che non è bello, non è che getta comunque discredito sulla parte turca, però Pescov ha fatto un discorso molto più politicamente e molto intelligente. Ha detto che si rende conto che la Turchia è sottoposta a fortissime pressioni in vista proprio del vertice della NATO di Vilnius e quindi è chiamato a pagare un prezzo questo paese per le decisioni disalineate che ha assunto in passato, tra cui l'ha mancato adeguamento alle sanzioni che sono state imposte dalla Russia. Non solo quello chiaramente, anche in una serie di altri dossier si parla per esempio della fornitura, dell'acquisto degli S-400 di fabbricazione russa, l'avvicinamento ai BRICS, alla Scoia. La Turchia come sappiamo è un attore piuttosto indipendente e lo rivendica con orgoglio questa indipendenza, però questa indipendenza costa. Secondo me questa mossa da parte di Erdogan ne rappresenta un esempio. Allo stesso modo, però interessante, perché per un verso Erdogan rilascia i prigionieri delle battaglioni Azov e dichiara addirittura che l'Ucraina ha il diritto di ottenere l'adesione alla NATO. Ha il diritto, quindi non significa che la Turchia darà luce verde, significa che riconosce che ha il diritto, poi non si sa quando avrà il diritto di aderire. Comunque l'ha dichiarato, ha dichiarato questo. Allo stesso tempo ha dichiarato di aspettarsi che l'Unione Europea apra le porte alla Turchia, in modo tale che la Turchia possa aprire le porte della NATO alla Svezia. Questo è molto interessante, è proprio tipicamente erdoganiano a questo tipo di posizione, cioè come si sta coinvolgendo in una trattativa che coinvolge la Turchia il numero maggiore di componenti, di controparti possibili per ottenere di volta in volta il meglio per il suo paese. Quindi stiamo a vedere, io tenderei a dargli questo genere di lettura, non sono propenso invece a interpretare questa mossa di Erdogan come hanno fatto alcuni, ha come il tradimento. Erdogan non è un personaggio da prendere impegni inderogabili, ai quali terra fede a tempo indefinito. Erdogan gioca, è un abile giocatore di poker che è abituato a muoversi sul filo del rasoio, molto spesso, a seconda di quelle che sono le valutazioni del momento. Non ha partner strategici eternamente affidabili, gioca una sola partita e sta continuando a giocare. Credo che la Rupsea lo sappia bene e comunque nonostante tutto credo che al Cremlino ritengano Erdogan una controparte di gran lunga più utile e affidabile rispetto a quelle occidentali. Ormai mi pare assodato da tutta una serie di indizi che non sono assolutamente mancati nel corso del tempo, quindi credo che la Turchia continuerà in un modo o nell'altro a portare avanti questa traiettoria undivaga che ormai la caratterizza dai primi anni del governo Erdogan. Quindi questa è la mia lettura. Sì, stavo pensando che è un abilissimo giocatore di scacchi, ma la definizione più corretta è la tua, è un abile giocatore di poker più che di scacchi Erdogan. Stefano Ursi? Sì, noi abbiamo visto questa vicenda fin dall'inizio. Diciamo che Erdogan ha posto una serie di questioni che erano una chiara provocazione alla Svezia, ad esempio. Ti ricordi che aveva mandato un elenco di persone per le quali chiedeva l'estradizione. Una persona è stata estradata su 70 circa che erano state richieste. Recentemente Erdogan ha dato l'ok alla Finlandia, quindi il colpo al cerchio, e poi però dà il colpo alla botte adesso, perché pone sul piatto l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Che è poi il piatto grasso. Dice va bene, allora prima di discutere dell'ingresso della Svezia, che per noi al momento non è cosa da fare, dobbiamo discutere prima dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Senza questa precondizione è inutile discutere dell'ingresso della Svezia nella Nato. Questo è riportato anche dal Washington Post. Poi c'è anche la posizione di Orban, che prende posizioni contro l'ingresso e l'estensione alla Svezia dell'alleanza. Quindi ci sono già alcuni argomenti, alcune patate bollenti che verranno trattate all'interno del vertice Nato in Lituania. Si voleva dare forse un segnale molto forte dell'Occidente unito a fianco dell'Ucraina. Le premesse, visto che inizia domani, le premesse di oggi sembrano tutt'altro che buone da questo punto di vista. Quindi non saprei bene come inquadrare al momento la linea ondivaga della politica turca. Vedi, da un lato sta ponendo degli interessi forti della Turchia per concedere qualcosa e questo indica anche la capacità del Presidente, che gli riconosciamo sempre, di riuscire a portare gli interessi del suo paese su tutti i tavoli delle trattative. Per cui questo significa che anche nell'ambito di un'alleanza, che anche nell'ambito di una partnership con l'Unione Europea, se un capo di Stato vuole portare a casa qualche cosa di utile al suo paese, ha spazio per farlo. Erdogan ce lo sta mostrando questo. Chi non lo fa, non lo fa per sua scelta, per sua convenienza, non per convenienza dello Stato per imposizione di altri. Ogni riferimento è puramente voluto. Ogni riferimento a Malone, quel premio irlandese, è chiaramente... Anche qualcuno un po' più vicino a noi. Esatto, sì, 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 anche qualcuno un po' più vicino a noi. Magari che parli italiano anche. A volte, a volte, un po' maccheronico forse, ma diciamo di sì. Ecco, il problema è appunto questo, che noi abbiamo un Presidente che sotto certi aspetti, credo sia prematuro, va a dare una valutazione precisa o un'opinione nostra riguardo, sto parlando ad esempio del rilascio degli Azoviti, che credo sia ancora prematuro ritenere veritiere le dichiarazioni di Mosca che non ne sapeva nulla, esattamente come dare una valutazione del rilascio di questi a Zelensky, perché oltre al rilascio di questi, che è una grande mossa mediatica, non gli ha dato niente, non gli ha dato armi, non gli ha dato altre forniture. Gli hanno detto sì, in partnership costruirete magari uno stabilimento di armi turche in Ucraina, che è come dire non farete niente, perché siete un paese in guerra, come mettete giù due mattoni ve li bombardano, no? Ecco, quindi di fatto non gli ha dato niente oltre quelli e potrebbe aver concordato. Oggi si sono incontrati tra l'altro, dunque Lavrov e il ministro degli esteri Fidal, che stanno appunto discutendo del rinnovo o della proroga, attenzione, dell'accordo sul grano, perché il rinnovo se è probabilmente difficile. La proroga è stata chiesta di tre mesi, quindi sufficiente per esportare o incamerare, nel caso della Turchia, una grande quantità di cereali dai porti ucraini, ecco perché il più grande beneficiario di questo accordo è sicuramente la Turchia. Vediamo, è tutto in divenire, con Erdogan non si può mai dire una cosa certa, perché è un uomo dalle mille risorse. Assolutamente, assolutamente. L'avete evocato poco fa nei vostri interventi, domani inizia un vertice, sentiamo adesso il vostro parere, sembra particolarmente importante, potrebbe addirittura essere anche magari drammatico. Stiamo parlando proprio del vertice Nato, l'11 e il 12 a Vilnius in Lituania. Giacomo, quali sono i più probabili scenari che emergeranno o al termine di questo vertice? È un vertice diverso dagli altri, secondo te? Gli altri erano sempre un po' una mezza kermesse o qualcosa? Come lo vedi tu? Diciamo che già la sede è piuttosto interessante, il Nips e i paesi baltici, per cui la componente dell'alleanza atlantica è collocata su posizioni più oltransiste, questo è già un segnale. D'altro canto, questo vertice è stato preceduto da una presa di posizione che personalmente mi ha accolto un po' di sorpresa, da parte di Macron che si è detto favorevole all'accoglimento dell'Ucraina nella Nato. Io questi discorsi, come dicevo prima, mi lasciano sempre perplesso perché… Ma è la Nato stessa che non esclude nei regolamenti l'adesione alla Nato di un paese che è in guerra, l'Ucraina o in guerra? In teoria sarebbe anche il trattato del Nord Atlantico, poi cercano di integrarci alla Georgia, poi adesso si aprono, cerca di aprire uffici di rappresentanza in Giappone, ormai il concetto anche di geografia comincia a vacillare con questa gente qua. Il punto è che se, discorso qual è, ci sono delle forze purtroppo all'interno dell'Unione Europea, più che negli Stati Uniti, che hanno l'intenzione di coinvolgere l'intero schieramento in questa guerra, mettere sulla bilancia, che per il momento ha un piatto che è quello russo, russo che pesa molto di più, controbilanciarlo con una carica che assomi tutte le componenti militari occidentali per compensare lo squilibrio, quindi da un punto di vista militare, quindi fare scendere in campo direttamente l'Alleanza Atlantica. Si era parlato di coalizione dei volenterosi per il quale non sarebbe valso l'articolo 5, se non che la Russia ha detto benissimo, non vale l'articolo 5 che prevede l'entrata in campo di tutta la coalizione in caso di aggressione di un paese membro dell'Alleanza, benissimo, però allora non vale neanche il senso opposto, per cui se la Polonia invia soldati in Ucraina, noi ci riserviamo di attaccare la Polonia, perché come dicevo, se gli altri paesi non sono chiamati per forza di cose a sostenere la Polonia in caso di attacco nei confronti dei suoi soldati in Ucraina, benissimo, allora la Russia li attacca in Polonia, attacca direttamente le strutture da cui partono gli attacchi dalla Polonia e in questo caso non vale l'articolo 5, allora tutti questi guerrafondai per interposta persona hanno cominciato a mordere il freno un po'. E diciamo che è interessante questo punto di vista, secondo il quale dovrebbe essere offerta che esattamente l'obiettivo a cui puntano i vertici ucraini, non tanto Zelensky che per me è sempre più un pupazzo, quanto alcuni suoi consiglieri Podoliak, che parlano giustamente dal loro punto di vista, puntano all'integrazione immediata, corsia preferenziale per ottenere questa integrazione immediata dell'Ucraina nella Nato, in modo che questa mossa consentirebbe al paese di coprirsi le spalle, quindi acquisire una potenza, una rete di alleanze che le consente di ribaltare l'esito del conflitto. Io credo che questo non avverrà significativamente a quanto trappela, quanto sta trappelando su alcuni mezzi di comunicazione non solo statunitensi, per effetto del veto che sembrano intenzionati a porre sia gli Stati Uniti che la Germania. E non credo che saranno solo loro, perché dubito che la Grecia, tanto per dirne uno, arrivi si spinga ad accettare una prospettiva di questo genere, perché come dicevi giustamente tu, oltre ad essere una violazione clamorosa del Trattato del Nord Atlantico, che chiaramente non può ultimare, non può accettare l'adesione di un nuovo membro che abbia delle questioni territoriali aperte. Parlare di questioni territoriali nel caso specifico è un eufemismo piuttosto evidente, ma soprattutto non c'è l'intenzione, né soprattutto la capacità, anche politica, di scegliere una scelta chiusa. Come si legittima agli occhi dell'opinione pubblica, che in molti paesi europei è sempre più visibilmente, fra l'altro, disponibile ad appoggiare questo sforzo bellico, la prospettiva di aumentare addirittura il coinvolgimento dei propri paesi e magari anche di scendere direttamente in campo, perché qui chiaramente nel momento in cui la Nato dovrebbe intervenire formalmente, qui si parla senza mezzi termini di terza guerra mondiale, ha detto Medvedev e l'ha detto anche Biden. Quindi un conto sono i discorsi fatti per i giornalisti, un conto poi la realtà sul campo. Io credo che i tributi di sangue per una causa del genere siano ben pochi a volerli pagare. Quindi penso che al di là di… credo che la cosa più probabile sia l'impegno da parte di tutti i paesi membri dell'Alleanza Atlantica a prendere in considerazione una futura entrata dell'Ucraina nella Nato, una volta che poi che avrà scacciato i russi dal territorio eccetera, che è una soluzione che permette di salvare la faccia da un punto di vista politico, perché si continuerà nel frattempo a dire che la controffensiva va bene, che comunque ci sono buone prospettive che gli ucraini riescano a rovesciare con le loro forze il verdetto del campo di battaglia e quindi noi intanto comunque diamo il nostro sostegno anche politico e magari riusciremo a dargli anche qualche altra arma in più per poter per porre nelle condizioni di aderire alla Nato. È stato proprio non molte ore fa che Biden stesso ha detto potrebbe l'Ucraina entrare nella Nato a conflitto concluso, è una frase che veramente non vuole dire nulla. È proprio quello, quando Foreign Affairs, che è la rivista del Consiglio Foreign Relations, che è uno dei pensatoi di riferimento in cui si modella la politica estera statunitense, pubblica un articolo proprio in questi giorni, due studiosi, Joshua Shifrinston e Justin Logan, due professori universitari, uno dei quali fra l'altro è andato a spulciare, è diventato famoso a livello internazionale per aver spulciato un po' gli archivi dei paesi dell'Alleanza Atlantica in cui è scoperto che quelle promesse che nel 1990 erano state fatte a Gorbachev, da James Becker e Bush in merito all'impegno della Nato di non espandersi di un pollice a desto, erano reali. È stato lui a scoprirla proprio nei documenti, questo fatto. Questo professor universitario assieme a un altro, tra un articolo pieno, secondo me, anche di argomenti quantomeno discutibili, ha detto a Pertis Verbis, ha dichiarato a Pertis Verbis che i vantaggi che verrebbero assicurati da un'adesione, da un'integrazione immediata dell'Ucraina nella Nato scompaiono letteralmente alla luce dei rischi che si corre a prendere una decisione del genere, perché chiaramente, come dicevo prima, coinvolgere formalmente in un conflitto aperto la Nato con la Russia apre delle prospettive apocalittiche e questo se ne rende conto chi è negativo, certo. Stefano? Non ci sarà nessun ingresso dell'Ucraina nella Nato a questo vertice, in una maniera più assoluta, ma totalmente, alla fine delle fini l'hanno già detto in tutte le salse, Foreign Affair non fa un articolo a Vanvera, Foreign Affair è l'espressione di una componente essenziale del pensiero politico americano e quando si pronuncia in termini così, per carità non fate entrare l'Ucraina nella Nato, lo fa a ragion veduta, non esprime di fatto la posizione politica degli Stati Uniti, non è un qualunque think tank che dà una sua opinione in tal senso, ha fatto una valutazione molto precisa e quindi dice, ragazzi, finché si scherza ok, ma qui siamo di fronte a una situazione seria e quindi parliamo di cose serie, cioè non può entrare l'Ucraina nella maniera più assoluta nella Nato, basta, queste posizioni lasciamole agli jacoboni, ai parsi, a quella gente lì che apre la bocca e dà fiato, ma quando si parla di cose serie, affiamola in maniera seria, ecco, e quindi Foreign Affair si è espresso in maniera categorica, tant'è che anche Biden l'ha detto, che non ci siano al momento possibilità di questo ingresso, ma come anche lo stesso Erdogan ha detto, non siamo contrari a un futuro ingresso dell'Ucraina, ma tutti dicono così quando ci saranno le nulla, esatto, un po' come dire la ricostruzione dell'Ucraina la pagherà la Russia, è una frase che può essere interpretata in più modi, dal costringeremo la Russia a pagarlo oppure saranno affari loro perché intanto tra un po', arrivando diciamo, se la prendono tutte sarà affari loro, il problema è che cosa faranno in questo vertice? Beh, intanto possiamo anticipare che gli ucraini chiederanno nuove armi e in quantità maggiore, questo è pacifico e gli daranno cosa? Questo è già un problema, perché l'unica cosa che possono dare al momento sono i caccia, altro non possono dare, possono dargli degli Abrams, quello sì, perché sono arrivati usati in Polonia e già in Livrea Verde e quindi non in Livrea Desertica, poi ripitturati alla bene meglio come alcuni Oshkosh che abbiamo visto, eh Giacomo lo sei fatto caso anche te, che sono stati rimaneggiati velocemente per essere messi, questi sono arrivati già verniciati di verde, quindi per cui potrebbero già essere in una chiave di lettura ucraina, ecco la Polonia sta mandando altri MI24, il Corriere vaneggia di controllo di Martio Mosk da parte degli ucraini, io non so chi è che gli scriva questi articoli al Corriere, vabbè, comunque no perché prima mi è arrivato una serie di messaggi che dicevano ma il Corriere ha scritto questo, erano un po', ho detto ma ragazzi siamo seri, leggete il Corriere per la miseria, per quanto riguarda quindi questo vertice ci sono delle aspettative, l'Ucraina si è portata avanti con la propaganda, ha portato a casa gli Azzoviti, hanno girato il video dei 500 giorni, cioè di un anno dalla battaglia dell'isola dei serpenti, ricordiamo che era costata la vita di molte forze speciali ucraine che avevano tentato l'assalto all'isola finendo massacrate letteralmente e queste morti pesavano su chi aveva dato l'ordine di attaccare l'isola, che poi è stata abbandonata e non più recuperata né dagli ucraini né dai russi, perché ogni tentativo di sbarco da parte ucraina venne accompagnato da un bombardamento da parte russa che massacrò nuovamente le forze che erano sbarcate e quindi abbandonarono definitivamente sia gli uni che gli altri l'idea di mettere una posizione strategica lì fino a guerra terminata e anche lì poi vedremo alla fine chi prenderà poi anche questa zona. Questo poi faremo il punto della situazione i prossimi giorni su questo vertice, sugli esiti del vertice Nato a Vilnius in Lituania che inizia domani l'11 e il 12 di luglio. In attesa di trovare una sua identità che non lo so se troverà, c'è da notare Giacomo che il capo della politica estera dell'Unione Europea, Joseph Borrell, avrebbe dovuto essere adesso in visita a Pechino, ma la Cina ha annullato il viaggio che è saltato in pratica per la seconda volta. C'è da notare che proprio i giorni scorsi a Bruxelles avevano definito la Cina un concorrente economico e un rivale sistemico, quindi non sono i migliori, non è una gran tattica questa per preparare il viaggio di Borrell. Tra l'altro la Cina non ha nemmeno fornito le ragioni per l'annullamento. Diciamo che la Cina qui diventa veramente l'ago della bilancia, diventa il vero e proprio convitato di pietra perché ricordiamo qualche settimana fa Anthony Blinken, il ministro degli esteri americano in visita da Xi Jinping, direi che c'è un'immagine plastica che definisce tutto perché nell'incontro con i giornalisti in un incontro pubblico non c'era nemmeno la bandiera americana. La Cina non fa nulla a caso. I rapporti di forza ultimamente in campo e poi parleremo anche del segretario del tesoro americano Janet Yellen che è in visita a Fechino. C'è un filmato incredibile dove nell'incontro con il suo interlocutore cinese lei nell'arco di pochi secondi si inchina a lui tre o quattro volte mi sembra. Se le immagini significano qualcosa è già stato detto tutto. Prego, a te la parola. Direi che la chiave per capire le ragioni di questa decisione da parte della Cina di annullare la visita di Borrella e di non spiegare neanche le ragioni perché tanto non vale neanche la pena e sono pienamente d'accordo con i cinesi, ricercata è nelle conclusioni a cui ha prodato un articolo dell'European Council on Foreign Relations che è un think tank diciamo il più famoso think tank europeo che è finanziato da Soros, da un sacco di bella gente insomma. Affondabilissimo. Sì, quindi di comprovata fede atlantista che parla senza mezzi termini di arte del vassallaggio e di americanizzazione dell'Europa. Arte del vassallaggio riferendosi all'Europa, naturalmente. In questo articolo che è sorprendente si parla anche degli svantaggi chiaramente in un'ottica di atlantismo che derivano sul vecchio continente e dall'alleanza atlantica nel suo complesso dal fatto della riduzione, dallo scanimento dell'Unione Europea a questo rango di netta subordinazione che ormai si estende a tutti gli amici tecnologico, economico e da ultimo ma non per importanza anche diplomatico. Perché il fatto che l'Unione Europea assuma proprio delle posizioni si esprime in termini diplomatici mutuando le espressioni tipiche degli Stati Uniti, quando che parla di avversari sistemici eccetera, quello è un linguaggio tipico degli Stati Uniti, degli apparati dello Stato profondo statunitense. È un linguaggio tipico fra l'altro della guerra fredda, che poi è stato portato, chiaramente sopravvissuto alla guerra fredda e continua a far parte del lessico diplomatico statunitense, ma nei confronti di questa tendenza che si ancora, si basa, si impernia su logiche completamente obsolete. E questo non lo dico io, lo dice il ministro degli esteri indiano Jay Shankar che ha detto chiaramente, per esempio, quando gli è stata offerta l'appartenenza, la creazione di una partnership dell'India la Nato ha declinato la proposta perché voi ancora siete ancorati logiche del passato che non vanno bene per l'India e non vanno bene nemmeno per la Cina, perché questa logica dei blocchi contrapposti, dell'oconnoio contro di voi, sta cominciando a suscitare irritazione un po' ovunque. E il fatto che l'Unione Europea cominci a dare patenti, già da patenti nei discorsi sui diritti umani eccetera, a fibi comunque quindi dei voti, del Sierga Maestrina che con la penna rossa discrimina i meritevoli e i non meritevoli, è un atteggiamento che non è più, già era censurabile prima, ma adesso è anche materialmente non più praticabile perché ha delle ripercussioni di questo genere. E siccome per noi la Cina è l'ultima ancora di salvezza dal punto di vista economico, perché tagliare ormai quell'arteria significa condannarci a un suicidio, già ci siamo ben instradati su questa via, però a quel punto diverrebbe immediato e automatico. Quindi magari moderare un po' i toni, evitare di parlare in quei termini. Chiaramente se sei un vassale degli Stati Uniti però la cosa diventa coerente, perché se il padrone si pone in una certa direzione, si assume un certo tipo di postura, tu di riflesso, devi magari anche addirittura farti vedere come pure a vista del re e a quel punto assumi delle posizioni ancora più il transiste per ringraziarti in favore del padrone. E questo però ha delle ricadute che sono drammatiche. Cioè noi rischiamo di giocarci l'ultima carta che c'è rimasta e questo lo si vede per esempio nei conti economici in una nazione come la Germania, i cui destini è ancorato tutto il resto del vecchio continente. C'è un caldo degli ordini industriali, una crescita strutturale dei costi legata in primis all'energia e a questo punto si profila chiaramente all'orizzonte un deterioramento dei rapporti con la Cina. Se quel mercato di sbocco che tiene in linea di galleggiamento l'economia tedesca dovesse chiudersi, a quel punto la Germania precipiterebbe tutta la struttura economica che si estende in buona parte del vecchio continente integrata nella catena del valore tedesco. Un disastro epocale. Quindi svegliamo e cominciamo ad adeguarci a un mondo che cambia, alle dinamiche i rapporti di forza stanno instaurandosi, oppure l'Unione Europea, la Germania e noi stessi faremo una fine bruttissima. Questa è la mia lettura. E su questo poi Giacomo e Stefano dovremo anche tornare su questa relazione tra l'Italia in particolare in questo momento e la Cina perché a fine anno scadranno i 5 anni del memorandum della Via della Seta e quindi il governo Meloni in questo caso dovrà decidere se rinnovarlo o meno. Ricordiamo che nel 2019 l'Italia è stato l'unico paese europeo che ha siglato questo memorandum sotto il governo Conte, bisogna dargli effettivamente atto. C'è da notare una dichiarazione di questi giorni di Mattarella in merito alla Via della Seta, dice la Cina è un avversario politico ma deve rimanere un interlocutore economico. C'è anche un bottismo proprio. Sta cominciando a imitare Biden quanto a logicità di concetti. Va bene, Stefano, Stefano sulla... Una delle cose che abbiamo notato, a parte il fatto che Borrello stiano anche bullizzando perché povero Cristo è ridotto... cioè ha fatto... lui cercava di fare il bullo e adesso gli stanno dando degli appuntamenti che regolarmente poi vengono disdetti senza neanche dargli una ragione. Ma se noi andiamo a vedere i temi che lui vuole andare a trattare in Cina. In questi troviamo tutte le premesse perché come diceva giustamente Giacomo prima i cinesi gli dicono senti statene a casa tua. Vuole andare là per parlare dei diritti umani ai cinesi. Andar là per parlare del... è sparito Giacomo? È sparito ma confidiamo che rientri. Probabilmente ha avuto un'idea. Intanto proseguiamo Stefano. Vanno là a parlargli delle sanzioni che vogliono mettere per la guerra con la Russia per evitare gli scambi, le triangolazioni, quindi alta tecnologia sui chip, chip complessi e sofisticati. Tutte cose per cui la Cina è contraria. E soprattutto cosa andate là e loro dicono cosa volete venire a parlarci a noi di diritti umani? Per le campagne che avete messo in piedi sugli uiguri o altro che non corrispondono al vero? Cioè ci venite a parlare di qualcosa? Fomentate i disordini a Hong Kong? Ammazzate quasi la gente per strada in Francia e venite a parlare a noi di diritti umani perché abbiamo fatto ordine pubblico in maniera meno violenta e meno repressiva di quello che avviene regolarmente in Europa. Stai a casa, gli dicono di fatto. Stai pure a casa. Scusami, io credo che anche in Cina, oltre a queste tematiche che hai appena esporto, che sono assolutamente giuste e ci mancherebbe pure metterle in discussione, i cinesi che sono alla fine molto pratici dicono ma un esponente come Borrell, a nome di chi sta parlando? Perché alla fine i cinesi, e l'esempio della via della seta è lampante, hanno cercato di raggiungere ad accordi con i singoli paesi perché Bruxelles e Borrell chi rappresentano? Rappresenta niente alla fine, no? Al lato a parte. No, infatti, sono un ente burocratico che è convinto di essere uno stato. Un'unione burocratica europea, ricordiamo l'inchiesta o il copyright? Sì, è in corso la domanda per vedersela prova. E poi c'è il caso di Janet Yellen che ha infranto tutti i protocolli della diplomazia americana, tutti. Il diplomatico americano mai si deve inchinare, lei ha fatto quattro inchini di fila, mentre il cinese impassibile non si muoveva di un millimetro. Quindi noi abbiamo avuto esattamente in quell'immagine la situazione politica al momento nel mondo. Scusami Stefano, faccio una domanda. Non è che magari gli americani, in questo caso la Yellen, sono furbi che sanno quando devono in un certo senso pagare dazi e quindi dare una cosa, sai? Ma è sempre vista in un percorso? Eh sì, ma siamo al secondo di fila, perché al primo punto, l'hai detto tu, non c'era neanche la bandiera americana con Blinken, segretario di Stato, arrivato lì per i colloqui, che non è da poco. La Janet Yellen che va là, perché si genuflette? È perché loro hanno l'aumento del debito, hanno l'aumento del debito approvato e devono venderlo a qualcuno questo debito. E' quello il problema. E chi lo può comprare se non la Cina, il debito americano? E quindi altro che inchini vanno a fare. E questa è la realtà della situazione. Poi per il resto vedremo, ma da molti particolari si capisce che chi urla tanto sembra essere realmente più in difficoltà. Sì. Giacomo, senti, trattiamo per ultimo argomento, io direi di fare dei ragionamenti sulla Germania e porto due elementi, perché una delle più importanti aziende tedesche, la Rheinmetall, vuole costruire in una cittadina, la città di Dandì, Vese, una nuova fabbrica per i componenti degli F-35. L'amministratore delegato dell'azienda parla di trasferimento di know-how in Germania. Una Germania che prevede di ridurre drasticamente le prestazioni sociali e frenare il debito pubblico, ma di aumentare l'importo per le forze armate nel 2024. Beh, direi che tutto si ricollega a quello che dicevo prima, quando si parlava di americanizzazione dell'Europa, questo è un esempio piuttosto plastico, cioè la Germania ha costruito buona parte del suo successo economico dal 1909 dopo la rinificazione, insediando nei paesi dell'Europa centro-orientale che erano appartenuti al blocco comunista, buona parte degli impianti produttivi che si occupavano della produzione della componentistica dal basso a medio valore aggiunto. Quindi ha espanso geograficamente la propria periferia fordista, si è creata una periferia fordista che si occupava delle produzioni di base che poi venivano importate dalla Germania, assemblate assieme invece alle componenti di maggiore contenuto tecnologico e riesportate. Questo assieme alla strutturale sottovalutazione dell'Euro rispetto ai fondamentali dell'economia tedesca ha permesso alla Germania di trasformarsi in una spaventosa macchina esportatrice in grado di manellare avanzi commerciali per 30 anni di fila. Adesso la Germania si candida, sta facendo un po' la fine che hanno fatto ai paesi di una varia repubblica cieca, è in Germania che una parte del complesso unitario industriale statunitense trasforma in propria periferia fordista. Quindi aprono uno stabilimento del Rain Metal al quale delle una parte della produzione dell'F-35, una produzione comunque tutto sommato ridotta, non si parla di componenti, quelle invece di veramente dall'elevatissimo valore raggiunto perché quella tecnologia lì se la tengono ben stretta agli Stati Uniti, altro che cessioni di tecnologie, queste cose non avvengono, possono avvenire nei confronti di un paese come Israele, interessante notare questo, ma non nei confronti di una Germania, perché Israele è considerato come un interlocutore non dico di pari rango, ma quasi, in alcuni ambiti anche di pari rango. La Germania no, la Germania rimane un suddito e come suddito viene trattato, ma giustamente dal loro punto di vista, anche perché la Germania che ha fatto del tircheria una ragione di essere a livello generale, quindi lesinava su qualsiasi cosa che imponeva risparmi strutturali a tutta il resto dell'Unione Europea, adesso sullo scia del conflitto russo-ucraino ha approvato un piano di spesa militare da 100 miliardi di Euro, un piano di riarmo poderoso che chiaramente per un paese come la Russia il fatto che la Germania si riarmi in questi termini ha dei riflessi, anche considerando i rapporti storici che hanno avuto questi due paesi. Quindi la Germania si colloca ancora più saldamente nello schieramento occidentale e questo, a mio modesto modo di vedere, fornisce un'indicazione piuttosto valida circa l'indirizzo che sta prendendo quel paese e chiaramente a ricasco prenderà tutto il resto del continente, perché come dicevo prima, la buona parte dell'Europa a livello economico è saldamente integrata con la Germania, per cui le decisioni che prende la testa si riprecuotono inesorabilmente anche sul corpo e questo credo che sia il futuro che ci aspetta. Poi anche il fatto che quindi le posizioni finanziarie a netta enormemente positiva, accumulata grazie a decenni di mercantilismo sfrenato e di accumulo di deficit, di surplus strutturali nella bilancia commerciale, adesso viene continuamente eroso, viene eroso in maniera rapidissima dall'incremento costante dei prezzi dell'energia soprattutto, che fanno venire meno la competitività dell'industria tedesca, quindi si traduca in un crollo delle esportazioni, in un calo strutturale degli ordini industriali e in uno spostamento progressivo degli impianti di produzione della Germania, in un caso negli Stati Uniti e in un altro caso verso la Cina. Quindi questo paese comincia ad avere problemi piuttosto visibili e difficilmente occultabili. Anders Blatt ne ha parlato, un giornale economico tedesco ne ha parlato in maniera inequivocabile, ne hanno parlato diverse testate anche internazionali del contributo declinante che sta registrando l'industria alla formazione del PIB tedesco, a fronte invece di una crescita dei servizi. Quindi si assiste a una terziarizzazione di un paese che ha sempre avuto una guida saldamente industriale, si sta convertendo in una sorta di Gran Bretagna in cui quindi la manifattura viene sacrificata sull'altare della terziarizzazione e quindi sulla costruzione di un'economia basata sui servizi, che presuppone una bilancia commerciale strutturalmente in passivo, perché chiaramente se non produce niente importi tutto dall'estero e la trasformazione in un sistema, diciamo in un'economia di parassitismo, perché un'economia che vive solo di finanze e di servizi è un'economia assolutamente inadeguata e instabile. E questo lo si vede benissimo nella fine che sta facendo la Gran Bretagna. Se la Germania è ormai incamminata su questa strada, stiamo freschi, anche noi italiani direi. In Inghilterra tra l'altro, di cui già in interviste scorse hai tratteggiato molto bene anche la situazione attuale e le prospettive. Stefano Orsi a te. Guarda, noi abbiamo visto tra i paesi che compravano gli F-35 una distribuzione della produzione dei pezzi sulla base di alcune caratteristiche dell'industria, insomma a seconda della graduatoria della sicurezza di quel paese, sono state assegnate determinate produzioni. L'Italia è uno dei paesi che assembla in toto ad esempio gli F-35 a camere. Ricordiamo che ad esempio mi sembra che noi produrremo quelli che andranno ad esempio alla Svizzera. La Germania è esclusa da questa produzione e quindi non ha avuto neanche accesso, per retroingegneria, alla comprensione, allo studio dei materiali e della metodologia costruttiva di questi caccia. Evidentemente in vista anche del suo progetto concorrente al Tempest di caccia di sesta generazione forse lamentano un ritardo nello studio di alcuni materiali o di alcune tecnologie di produzione che vogliono acquisire in vista di questo progetto. Non so in che altra chiave leggere questa richiesta da parte loro visto che mi sembra che abbiano acquistato degli F-35, Giacomo, se non sbaglio, e quindi vogliono una loro fetta di produzione magari attingendo a quella che era stata tolta alla Turchia, perché la Turchia aveva anche lei essendo acquirente da contratto degli F-35, poi sospeso contratto per via degli S-400, ecco che li tolsero anche la produzione della componentistica. Probabilmente la Germania dice ma io li compro adesso e quindi datemi anche una quota di produzione per me. Li serve per due cose, l'una ammortizzare quelli che sono i costi di acquisto di questi caccia e se è di manutenzione soprattutto poi successiva e poi dall'altro lato acquisire invece della conoscenza che non hanno, appunto anche in vista di progetti loro di vario tipo. Chiarissimo, questa è l'analisi dei principali fatti di politica internazionale di questi giorni, se avete trovato questa nostra intervista interessante pensate che il nostro lavoro sia utile per la vostra informazione, allora supportateci con una vostra donazione. Vi ricordo che il nostro canale è demonetizzato da YouTube da tre anni ma potete scegliere come sostenerci con un bonifico bancario libero oppure potete abbonarvi al nostro canale tramite la piattaforma Patreon che vi dà accesso a contenuti extra in esclusiva. Nel testo qui sotto trovate i link per scegliere quale delle due modalità preferite. Ricordatevi il vostro supporto è fondamentale per noi per esistere per fare evolvere il vaso di Pandora. Siamo veramente in conclusione, io ringrazio come sempre Giacomo Gabellini e Stefano Orsi per le preziose analisi e informazioni che forniscono ai nostri ascoltatori ogni lunedì. Stefano prego. Un secondo, posso ricordare un appuntamento dove sarò presente sabato? Devi ricordarlo. Al festival lucidamente di Gambassi Terme sabato pomeriggio sarò presente per appunto un incontro pubblico. Mi hanno invitato e quindi ho accettato e sarò là. Ricordiamolo sabato prossimo? Gambassi Terme al festival lucidamente alle 17.30 mi sembra. Per incontrare e conoscere di persona Stefano Orsi. Grazie Stefano. Grazie a Giacomo Gabellini. Grazie Giacomo. Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.